Decine di attivisti hanno occupato parte del Ministero dell'Ambiente a Beirut per protestare contro il mancato smaltimento dei rifiuti nella capitale libanese. Un video diffuso dagli stessi manifestanti mostra una trentina di giovani seduti sul pavimento mentre reclamano le dimissioni del ministro e di altri esponenti del governo. Il titolare degli interni ha intimato di mettere fine al sit-in e di lasciare l'edificio, finora però la protesta non è stata violenta e i militari dispiegati all'esterno non sono intervenuti per sgomberare gli occupanti. Il mese scorso altre manifestazioni erano degenerate in scontri con le forze dell'ordine con un pesante bilancio di feriti. Il movimento You Stink, nato in segno di protesta contro la crisi dei rifiuti, si è trasformato in movimento contro la corruzione e la paralisi del sistema politico libanese diviso tra una coalizione sciita e una sunnita.